Vi invito oggi a mangiare bene, a mangiare tutto, a bere con abbondanza. Per cortesia la Coca-Cola, oggi facciamo un momento di conversione anche del seve, lo facciamo bere. Vino buono perché il vino è segno della vita eterna, in paradiso, fratelli miei, gli astemi non potranno venire, seve, perché si beve il vino.